Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2. Oggi carichi al massimo perché ci sono dei nuovi eventi all'interno del gioco. Li andremo ad affrontare insieme, sono dei raid veramente difficilissimi, per cui il nostro Joseph deve essere carico al massimo. E anche voi! Quindi pollice in su! Ora, fatelo adesso, altrimenti dopo ve ne dimenticate. E ho anche un'altra bella notizia da darvi. In descrizione vi lascio un link. Infatti Instant Gaming vi dà la possibilità di ottenere un gioco completamente gratis. Cliccate sul link, vi registrate al sito di Instant Gaming, inserite il gioco che vorreste ricevere ed uno di voi potrà approfittare di questa grande possibilità. Quindi mi raccomando, fatelo adesso, non ve ne dimenticate, perché comunque sono belle possibilità che io non appena vedo vi faccio presente, così ve le faccio vedere. Il tutto è ovviamente organizzato da Instant Gaming, non da me, però ci tengo a farvi vedere sempre tutte queste cosucce. L'evento che vedremo oggi, ragazzi, sarà veramente, ma veramente tosto. Avremo di fronte un colosso potentissimo, direttamente dal film di Dragon Ball Super Brawly. Prepariamoci ed eccolo qua. Vediamo connessione. Vero terrore in forma Saiyan. Brawly Super Saiyan massima potenza di livello 97. Ragazzi, sarà distruttivo. Sarà veramente difficile batterlo, ma noi, come sempre, partecipiamo a questi eventi, perché ci daranno poi medaglie PT, nuovi costumi. Ragazzi, meglio partecipare. Sembra che si stiano connettendo già tantissime persone. Qualcuno ha una buona connessione, qualcuno no. Però nel complesso sembra che quasi già ci siamo. Ottimo, ma aspettavo fosse più complicato. Solo uno ha una sola tacca. Però ragazzi, io sono pronto. Direi che finalmente possiamo andare. Quindi spero che tutti gli altri utilizzino patroller fatti come si deve, in modo tale da avere trasformazioni supreme e così via, per fare più danni possibili al nostro avversario. Vado con Joseph. Queste saranno le mosse. Vediamo che cosa ne esce fuori. Andrò a spammare un attimino, perché ragazzi, sapete no di che parliamo. Si tratta pur sempre dei raid. E quindi sta per arrivare un Brawly cattivissimo. Ah, tra l'altro, mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram. Anche in questo caso il link è in descrizione, perché molto presto vi metterò delle foto in compagnia di Francesca anche al mare. Quindi vi voglio carichi. Metto subito la carica suprema. Dai, 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 che mi carico in velocità. Ed eccolo che arriva. Ragazzi, allora, personaggi come questi, un colpe ti sciottano. Spero di non essere il primo ad essere attaccato. Ottimo così. Provo pure un attimino a trasformarmi. Spero di avere pure la superanima giusta, quella che non mi fa scendere Laura. Salviamo un attimino a lui. Dai, dai, salvalo. Nessuno che mi viene ad aiutare. Ragazzi, aiutatemi. Dai, 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 dai. Lirian Feldman. Ottimo. Eh, l'altro è arrivato dopo un quarto d'ora. Io vado così, ragazzi. Raggio letale dell'imperatore. Vediamo quanti danni gli facciamo. L'ho beccato. Guarda, guarda come scende la vita. Però, ragazzi, cioè guardate quanta salute residua ha. È qualcosa di incredibile. Allora, ho fatto un'altra meditazione. Posso fare lo stamina break? Ragazzi, lo stamina break non si fa. Mamma mia, scappa, scappa, scappa. Ragazzi, io non mi ricordavo perché i raid non li faccio da un botto di tempo. Ma mi aspettavo si potesse rompere un po' la stamina. C'era un altro che aveva il mio stesso personaggio. Ragazzi, ho sbaglio? C'era Pocket 685 Square. Che ha il mio stesso patroller. Ragazzi, mi hanno copiato il patroller. Ragazzi, sono io. È un fan. Ragazzi, si ha... Oddio, oddio. Ragazzi, ma che succede? Lui, sono io. Ragazzi, mi hanno copiato il patroller. Cioè, io ho fatto il raid. Mi hanno copiato il patroller. Ma che succede? Vedo doppio. No, vabbè, ragazzi. Non ha senso. Ma è una cosa folle. Aspetta, bro. Andiamo ad aiutare gli altri. Mannaggia. Via, via, via. Oh, mamma mia. Dobbiamo salvarli. Allora, vado così con la guardia vanescente. Vediamo di proteggerci in qual... Oh, mamma. Ragazzi, sono l'ultimo. Oh, mamma mia. Eccolo, viene da me. Mamma. Mi dà la testata e sono finito. Ragazzi, allora, sono confuso. Ripartiamo. Allora, mi devo riprendere perché non mi aspettavo che un fan andasse a copiarmi il patroller. Perché, ragazzi, era sicuramente un fan. È impossibile che qualcuno vada a riproporre il tuo patroller in maniera identica. Davvero uguale. Ragazzi, è impossibile. Quindi qualcuno, qualche fan, l'ha visto e l'ha riproposto. Ma è una cosa che mi ha lasciato proprio perplesso. Però, siamo di nuovo pronti. Mettiamo tutti quanti pronto. Tutti quanti che dicono andiamo, andiamo. Un momento, si deve connettere l'ultimo. E direi quindi che ci siamo. Vai, vai. Connessione. Purtroppo prima ci siamo distratti. Cosa che non bisogna mai fare in un raid, ragazzi. Quindi adesso vediamo che succede. Prima che arriva Broly devo essere velocissimo, eh. Vai, vai, vai. Vai, subito, subito, subito meditazione. Perfetto. Ottimo. E poi subito Carica Suprema. In velocità, Joseph. Forza, massima velocità. Per quanto sia veloce la Carica Suprema, comunque non riesco a ricaricarmi completamente. Vai che ci sono quasi. Vai, vai, vai. Tanto divento Super Saiyan Blue Evolution. Se notate, Laura non mi cala. Sapete il perché, no? Ci ho fatto il video dedicato, quindi sapete già tutto. Raggio Letale dell'Imperatore. Vediamo di spaccarlo un attimino. Oh, guarda come scende la vita. In realtà la vita non gli scende. Scende la salute residua un attimino, ma è veramente poco. Qualcuno gli ha lanciato in faccia una Suprema. Mi garba, ci sta. Devo stare solo molto attento. Meno male che non ce l'ha con me. Però ragazzi, dobbiamo andare a salvarli. Vedi, vedi, ci provo? Guarda, guarda, niente stamina break. Ma quanti ne fa? Stop! Mamma mia, ragazzi. Ci riprovo? Raggio Letale dell'Imperatore? E ha voglia, ha voglia. Si sposta pure. Guarda, guarda, guarda. Ragazzi, ho veramente provato a fargli un botto? Oh, mamma mia, ce l'ha con me. Broly, broly, broly. Via, via, via. Mamma mia. Joseph, scappa. Meno male che non m'ha preso. No, ragazzi, ce l'ha con me, mo. Guarda, mi sta puntando. Ragazzi, distraetelo, please. Via, via, via. Mo mi arriva contro. Ragazzi, ce l'ha con me. Mamma mia, scappa. Joseph. Via, via, così. M'ha preso, ragazzi. Ho fatto mille teletrasporti. Io ho la capsula e senza senso. Oh, si è ripreso subito? Ragazzi, credo che sia forse, non so, la cosa di qualcuno che mi ha fatto... Ah, hanno messo la capsula. Grandissimi, ragazzi. Veramente grandi. Allora, quando posso, ragazzi, mi devo ricordare di metterla anche io, quella capsula. Vado così. Va bene. Super Saiyan Blue Evolution. Ottimo. E dove sta? Mamma mia, ragazzi. Per quanto mi sono scansato... Ma quante ne fa? Ragazzi, ne fa un botto di Supreme. Ma quant'aura c'ha? Di nuovo. Vai così. Ah, dalle spalle. Un po' da vigliacchi, però, ragazzi. È un raid. Eh, scusatemi. Mo' viene un'altra volta da me. Ragazzi, ma questo ce l'ha proprio con me. Via, via, via. Joseph. Madonna, mi ha preso. Meno male. No, ragazzi. Questo ce l'ha proprio con me. Eh, io mo' qua devo per forza solo scappare. Vediamo se mi attacca ancora. Così io sono pronto a fuggire. Non ce l'ha più con me. Meno male. Mi sono salvato, ragazzi. Almeno per ora sembra non avercela più con me. Dai che più tempo siamo praticamente qua ancora in combattimento, più danni gli facciamo. E più danni gli fai, più ottieni medaglie PT, costumi rari e cose simili. Prova ad avvicinarmi un po' e vado di nuovo col raggio letale dell'imperatore. Ottimo, ottimo. Lo sto colpendo. Vai, vai. I danni glieli faccio. Ottimo. Mamma mia. No, ragazzi. Però la tensione è alta in queste sfide. Scenario che odio. Qua, ragazzi, veramente non mi piace il... Proprio pure per le colorazioni. Non mi piace mai proprio il ghiacciaio. Però si combatte qua. Eh, vabbè. Vedi, devo fare il raggio letale dell'imperatore. Mannaggia. Riproviamoci. Prova ad attaccare dalle giuste distanze, ragazzi. Perché purtroppo mi fa paura sto Broly. Veramente troppo cattivo. Troppo rompiscatole. Mi faccio un'altra meditazione. Sperando che non triggeri me. Da un momento all'altro. Vediamo, eh. Se mi targetta è la fine. Dai, dai, dai. Però vedo, ragazzi, che stiamo resistendo molto bene. Siamo compatti. Ognuno di noi più o meno ha un compito, quasi. Vediamo. Lo becco. Sì, sì che lo becco. Ragazzi, stiamo facendo un botto di danni. Ottimo lavoro. Solo che dobbiamo andare a Pia Lucard, che ormai è a terra. Vediamo un attimino. Ah, si è messo la capsula e senza senso. Ragazzi, un team ottimo ho trovato. Veramente ottimo. Guarda, guarda, guarda. Oh, mamma mia. Questo sta qua, eh. Becchiamolo di nuovo. Ragazzi, qua bisogna fare così. Cioè, come vedete, tutti quanti lo fanno. Qua si spammano le supreme. Cioè, non si può fare nient'altro, ovviamente. Ancora che mi vado a ricaricare. Veramente stiamo, secondo me, ce la stiamo cavando molto bene. Stiamo facendo un botto di danni. Solo che è chiaro, un nemico così, ragazzi, non lo batteremo mai. Cioè, sappiate che i raid funzionano così, eh. Non lo batti. Vai, 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 vai. Giosef, ottimo. Vai che lo spacchi. Mamma mia. E prendi e porta a casa, Broly. Cioè, ragazzi, io ho la vita piena. Prima mi ha eliminato, però gli altri, come avete visto, mi hanno aiutato. E ora ce la stiamo gestendo veramente al top. Ancora. Raggio letale dell'imperatore. Prendi e porta a casa. Ottimo, ottimo. Sta picchiando qualcuno, ragazzi, come avete visto. Per fortuna non sta di nuovo targettando me. Manca un solo minuto. Spero davvero di fargli un botto di danni in questo minutino. Dai che si è beccato una suprema, non tanto. Qualcuno sta facendo una kamia mia bing bang. Dai che lo ribecchiamo, ottimo. Ma lui, c'è, non si ferma nemmeno per un secondo. Sì. L'ho visto quasi a te. Oh, ce l'ha con me. Aiuto. Via. No, ragazzi, questo è proprio arrabbiato, eh. Via, via, ragazzi. Io lo porto a spasso. Voi colpitelo. Almeno ci provo. Via, 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 via. No, ragazzi, questo ce l'ha proprio con me. Ce l'ha proprio con me, ma che t'ho fatto di male. Via. Via, via, via. No, ragazzi, questo mi spacca. Mi spacca. Non triggera... Cioè, non vuole più me? Faccio la meditazione nel frattempo. Ah, hai visto? Adesso guarda qualcun altro. A me va bene così. Mancano pochi secondi, ragazzi. Prima che finisce il tempo, io ho un'altra suprema che la devo dare in bocca. Vediamo, eh. Boom. Ottimo. Ci avviciniamo. Vai così. Ottimo. Spero di riuscire a scaricare tutta l'aura nel corso della suprema. Ma si sposta. Ma dai, dai, dai. Qualche colpo io lo do. Ottimo. Ragazzi, abbiamo concluso così. Mo' mi posso pure avvicinare. E lui? Guardate com'è messo male. Assurdo. Guarda com'è arrabbiato. Scappa però. Scappa e come? E ragazzi, è finita così. Però direi che questa volta ce l'abbiamo fatta. E abbiamo giocato veramente bene. E sono primo. Ragazzi miei, guardate quanti danni. 2544. Vabbè, ma aspettavo qualcosina in più a essere sincero. Però, ce l'abbiamo fatta, dai. Era da parecchio tempo, ragazzuoli, che non facevo addirittura un raid. Sono molto divertenti, soprattutto da fare in amicizia. Quindi magari per nuovi raid che arriveranno in futuro potrei farli con Blaziken e Tuberanza. Potrebbe essere una cosa veramente molto figa. E là, ragazzi, come al solito ci spaccheremo dalle risate. Che ne pensate? Lascio la parola a voi. Mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale cliccando qua al centro. Guardate altri video cliccando qui a destra e sinistra. Quindi alla prossima. Ciao!